Servirà un autentico miracolo al Tennis Club Pistoia per salvarsi dopo la pesante sconfitta nella gara di andata dei play-out della Serie A maschile. Domenica, in casa del Tennis Club Crema, la compagine pistoiese avrà due risultati a disposizione per non retrocedere. Una vittoria per 6-0 oppure una vittoria per 5-1, ma in quel caso ci sarà il doppio spareggio. Non sarà facile, vista anche la forza dell'avversaria, composta da due elementi del calibro del kazako Andrei Golubev, ex numero 33 al mondo, e il rumeno Adrian Ungur, ex numero 79 al mondo, ancora entrambi competitivi ad alto livello. Pistoia può aggrapparsi ad alcuni fattori positivi, al fatto che all'andata il risultato fu fin troppo penalizzante per quanto visto in campo, Poi al fatto che il numero 1 del ranking internazionale, Jeremy Zhang, è ancora atteso ad una prova d'orgoglio. Poi, occhi puntati su Adelchi Virgili, che ha dimostrato per tutto il campionato di avere un'eccellente forma. Tutto questo tiene ancora accesa quella fiammella di speranza.